Amici sportivi di Medieval.it, buonasera, il commento della partita con giocata dal Palermo contro il Radentine, terminata 7-0, ancora una vittoria nella seconda uscita di questo ritiro precampionato del Rosanero in Austria, ovviamente anche in questo caso l'avversario non era di livello, perché stiamo parlando di una squadra di quinta divisione austriaca, però è servito ancora una volta a Deleon Rossi e a noi da bordo campo per capire se questa squadra si sta lavorando bene e dobbiamo dire che effettivamente si sta proprio lavorando bene. Ancora una volta in gol a sorpresa abbiamo visto Kasami che ha realizzato una doppietta che è arrivata dopo tanto lavoro a centrocampo, tanti palloni, tanta grinta e una doppietta è stata segnata anche dal solito Massimo Maccarone che ha giocato anche in questo caso per tutta la partita, ha giocato bene, ha convinto e poi c'è stato spazio anche per i nuovi acquisti perché si sono messi in luce anche Glick che ha segnato un gol ma abbiamo visto anche Santiago Garcia impiegato sulla sinistra a posto di Balzeretti nel secondo tempo, anche per lui una buona prestazione, ha messo in pratica anche quello che gli aveva chiesto Mr. Delio Rossi. Domani continuerà l'allenamento per il rosa nero e ovviamente tutti gli aggiornamenti li troverete su mediagol.it in tempo reale qui dall'Austria, da William Anselmo, un saluto a tutti voi.